Rieccoci per questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv. Oggi c'è tanto spazio all'insediamento del nuovo Parlamento con l'elezione di la russa presidente del Senato sul quotidiano del Sud. Leggiamo la russa presidente del Senato senza forza Italia, caccia aperta ai franchi soccorritori, scrive il quotidiano del Sud. Il partito di Berlusconi non vota, poi la lezione di Liliana Segre, attuare la Costituzione, non cambiarla, scrive il quotidiano del Sud. Anche su Gazzetta del Sud, ecco qui, Senato, la russa presidente e la rissa. A 75enne siciliano di Fratelli d'Italia, 116 voti, ma non quelli di Forza Italia. In aula il WAF di Berlusconi voleva Ronzulli, ministra, Meloni ha detto no, invece Segre regala emozioni. Un grazie a chi, sebbene fuori dalla destra, lo ha appoggiato. Fontana della Lega in pol, ora per la Camera dei Deputati. Questi sono i particolari dell'elezione del Presidente del Senato, che dà il via alla nuova legislatura. Sul Repubblica destra la maggioranza non c'è. Operazione civile di Segre sulle nature e le radici antifasciste della Costituzione. La russa, eletto Presidente del Senato senza Forza Italia, è solo grazie a 17 voti dell'opposizione. Accordo in bilico sulla Presidenza della Camera, leghista Fontana, congelata la trattativa sul governo. Berlusconi furioso con Meloni per il veto su Ronzulli. Alle consultazioni da soli, dice Berlusconi, la leader di Fratelli d'Italia, no ai ricatti. Per questo dunque la giornata, che ovviamente poi viene ripresa all'interno delle pagine di Repubblica. Intanto però c'è la guerra in Ucraina, Erdogan e Putin parlano di gas, non si è discusso di piani di pace. Energia, i prezzi da abbassare. Una prova di leadership che piega Forza Italia, poi c'è qui l'analisi a proposito della elezione di La Russa. Holland, il PD deve tenere unita la sinistra. Poi il caso, una psicologa per selezionare i futuri sacerdoti. Poi sempre su Repubblica, l'omicidio di Voghera, leggiamo, i PM giustificano l'assessore pistolero, eccesso di difesa. E poi all'interno delle pagine di Repubblica, ovviamente tanto spazio alla elezione di La Russa presidente del Senato. La Russa presidente col soccorso rosso e la destra si spacca. E poi qui ci sono vari fotogrammi che riguardano il cosiddetto show del Cavaliere. Silvio Berlusconi discute con Ignazio La Russa prima della sua elezione. Nel video si vede il vaffa del Cavaliere Berlusconi al futuro presidente del Senato. E poi c'è una foto in cui ritrae Berlusconi gelido con Salvini, scrive Repubblica. I franchi tiratori, i più lenti a votare, hanno tradito. Al VAR del Senato sospetti su Italia Viva, PD e 5 Stelle. Il racconto da Matteotti al 25 aprile, la reazione di democrazia della senatrice Segre. Poi ancora Forza Italia, infrantumi, frena l'intesa sul governo, Meloni, basta ricatti. Fontana, l'ultracattolico entusiasta di Putin, in corsa per la Camera. Holland, il PD deve tenere unita la sinistra. E poi la manifestazione, alzitì incontro la guerra, staffetta, letta calenda. Uno arriva, l'altro va via. Il piano di pace può attendere. Erdogan e Putin parlano solo di gas. Questo era appunto sul quotidiano Repubblica, oggi appunto per il nostro appuntamento con i giornali in tv. Andiamo anche adesso alla prima pagina dei quotidiani regionali, partendo da Gazzetta del Sud. Avevamo già letto la notizia d'apertura, cioè sull'elezione di La Russa. Poi terremoto a Catanzaro, tanta paura, ma non ci sono danni. Quindi scossa di magnitudo 4.3 nell'area centrale della Calabria. Il sisma a 36 km di profondità davanti alla costa del Capoluogo. Centinaia di telefonate a protezione civile e vigili del fuoco. Dopo le verifiche le scuole riaprono. Il piano comunale di protezione civile a Catanzaro è fermo dal 2014, scrive Gazzetta. E poi ancora su Gazzetta a Catanzaro, il caso di Legionella, buchi e ritardi negli interventi delle istituzioni. Squillance, non ci fu corruzione, prosciolti il sindaco e altri quattro imputati. Crotone, morto in grembo, assolti sei medici dall'ospedale di Crotone. Poi Vibo Valencia, l'identità sepolta nelle storiche piazze adibite a parcheggio. E anche qui l'incontro Putin-Erdogan, hub dei gas in Turchia, ad Astana. Non si è discusso di soluzione del conflitto, di smistamento delle energie. Poi Sanità, firmato l'accordo sulle stabilizzazioni. In Calabria fumata bianca tra regione e sindacati. Il Movimento 5 Stelle chiede spiegazione sugli imboscati. In Commissione passa la proposta di legge sulle prestazioni aggiuntive. Era appunto quanto abbiamo letto dalle pagine di Gazzetta del Sud. Andiamo adesso all'interno delle pagine di Gazzetta del Sud. Sicilia e Calabria tutto tondo, parliamo del Festival del Cinema di Roma. Imponente presenze appunto di Sicilia e Calabria. L'evento principale è nella sezione autonoma per ragazzi. Alice nella città. Ancora da Gazzetta del Sud. Sanità, via libera alle istituzioni, confronto su CoCoCo e partite IVA. Accordo tra regione e organizzazione sindacale sui precari del Covid. Entro 30 giorni gli avvisi di aziende ospedaliere e aziende sanitarie provinciali distinti per profili professionali. I comuni in Sorigal, subito una legge per favorirne l'ingresso. La proposta arriva in Consiglio regionale. Poi ancora sul Catanzaro, protezione civile. Il piano di protezione civile c'è, ma è vecchio. Poi disputa sulla nuova facoltà di medicina. Fissato un Consiglio comunale a Catanzaro aperto. Tra gli invitati il governatore Occhiuto e il rettore dell'Università della Calabria. Poi il sindaco di Botricello replica alla minoranza nessuna regola calpestata. Puccio, durante il Consiglio comunale disertato dalle opposizioni, ha replicato le accuse. Annullata la delibera sulla determinazione dei valori imu dei terreni. Non ci fu corruzione né concussione. Prosciolti il sindaco e altri quattro imputati a squillace, sempre in provincia di Catanzaro. Il caso calme a Marcellinara fa ancora discutere. Scerbo, sindaco di Marcellinara, si ascoltino le comunità. Il sindaco di Marcellinara è schierato per il no al nuovo impianto di trattamento dei rifiuti. Durante la conferenza dei servizi il Comune ha contestato lo studio di impatto ambientale presentato dall'azienda, appunto il cementificio calme. Andiamo alla Mezzia, parliamo dei problemi dell'ambulanza del 118, postazione di emergenza e urgenza. All'appello mancano 24 medici. La Commissione Sanità del Comune ha incontrato il referente del 118. Ferrari, la situazione andrà ancora peggiorando nei prossimi mesi, quasi pronto il documento da sottoporre ai sindaci dell'Interland. Ufficio postale chiuso, tante le difficoltà per i cittadini di fronti, operatori economici in crisi, abbiamo bisogno di aiuto. E poi lunghe code al CUP per mancanza internet dell'ospedale di La Mesa Terra. Martirano, la via Popilia torna all'antico splendore, la costruzione realizzata dai romani. Poi Maida, accoglienza di rifugiati, il Comune di Maida ottiene fondi. Poi intitolare al Beato Carlo Acutis la strada di accesso alla Chiesa. All'interno del Logosacro sono esposte le reliquie del giovane religioso, la richiesta del Rettore del complesso San Benedetto di La Mesa. Poi torna l'evento Bettola, weekend gastronomico per il centro di Curinga. E poi Crotone, forniture idriche, elessorica, il battecassa, sono stati chiesti al Comune di Crotone. 884 mila euro. Tropea, la città punta a cambiare look, varato un piano di oltre mezzo milione di euro. Questo era sul quotidiano Gazzetta del Sud. Ci torneremo, ci torneremo al quotidiano Gazzetta del Sud per appunto leggere anche le notizie dello sport quando avvieremo la conclusione. Intanto leggiamo anche questa notizia su Gazzetta. Gratteri, io ministro, no, resto a Catanzaro, dice il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Sul quotidiano del Sud, sanità, crediti ceduti ad aziende lombarde, la clinica condannata a pagare l'Asp, oltre 1,1 milioni da restituire alle aziende, le cifre per prestazioni extra budget vendute alla società milanese. Sul fronte personale, la regione sigla l'accordo con i sindacati per stabilizzare i precari, 30 giorni per gli avvisi. Drangheta al nord, dopo la sentenza Emilia, le cosche si riorganizzano, i sindaci del Regino incontrano Gratteri. Il nuovo Parlamento, Mario Chiuto, racconta il primo giorno in Senato, il non voto sulla russa, segnale contro i veti. Poi terremoto, paura a Catanzaro, scossa di magnitudo, 4,3, nessun danno registrato, il capo della protezione civile richiama i sindaci alle responsabilità. Rocca Bernarda, l'ex sindaco Coco parla dopo l'aggressione. Catanzaro, il caso Medicina arriva in aula, il 24 Consiglio Comunale ad hoc. Reggio Calabria, maltempo e disagi, il consigliere di Forza Italia con il PD si affonda. Poi Vibbo Valencia, Comuni, in arrivo 24 nuove unità, due le figure dirigenziali al comune di Vibbo. Poi Crotone, Emergenza Acqua, Sorical presenta il conto al comune. Vibbo Valencia, offriva case inesistenti, truffatore, seriale, arrestato. Poi aziende, premio SMAO, innovazione all'azienda Caffo, questo era su Quotidiano del Sud e all'interno delle pagine del Quotidiano del Sud. Poi c'è questa storia, un viaggio di 200 chilometri per ritirare gli esami al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. I referti non vengono inviati per mail. Poi ancora l'incontro, 30 comuni emiliani solidali con Gratteri. Caso Villatorano è stato assolto Zuccatelli, era indagato per rivelazioni di segreti d'ufficio. Ancora sul Quotidiano del Sud, a proposito delle elezioni del Presidente del Senato, c'è questa retroscena, questa curiosità, Berlusconi e il libro su Misasi. Durante il discorso della senatrice Liliana Segre, che ha preseduto la prima seduta del Senato, Silvio Berlusconi è stato visto sfogliare un libro che aveva con sé. Il titolo Riccardo Misasi, un tributo. Durante il discorso di Segre, Berlusconi legge il libro su Riccardo Misasi. A Reggio Calabria, un giovane di Reggio Calabria purtroppo è morto in un incidente a Cremona. Poi Cosenza, Cultura Mediterranea e i premiati, Il mondo che io vorrei è il leitmotiv di questo premio. Ancora andiamo al Quotidiano da Catanzaro, azioni urgenti e progetti, nuovi loculi e ampliamento per i servizi cimiteriali a Catanzaro, la dichiarazione dell'assessore di Catanzaro Scalise. Sulla Mezzia, ecco qui, supporto alle attività economiche, la Confcommercio ha discusso delle varie problematiche degli esercizi pubblici di La Mezzia, il presidente della delegazione della Confcommercio di La Mezzia, Cotroneo, bisogna concertare con il Comune. Giornata perdita per i Natale, quindi su richiesta dell'Ufficio di Pastorale della Salute della Diocesi di La Mezzia Terme, la Madonnina di Piazza Ardito di La Mezzia sarà colorata di rosa e azzurro per questa giornata mondiale, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla perdita in gravidanza o dopo la natalità. Questo era sul quotidiano e ancora frana del 2018 alla frazione Fronti, in via Cafossi di Fronti, è stato chiesto un intervento di messa in sicurezza, il sindaco intanto Mascaro è stato sollecitato sui vari problemi della frazione di Fronti. E torna la rassegna Suoni del Sud al teatro costabile di La Mezzia, si apre con Dicello Fusion Project e ancora dalle associazioni arriva questa notizia, l'ex carcere di La Mezzia per attività culturali, ma Italia Nostra dice che dalle parole ora si passi ai fatti. C'è questa bella iniziativa che finalmente in realtà a Cicala, la casa paese finalmente in realtà e quindi protezione, libertà e dignità per le persone affette da Alzheimer o comunque da malattie neurodegenerative. Ci sono animatori, educatori, operatori sociosanitari che sono pronti ad accogliere 16 pazienti, in pratica nel borgo di Cicala appunto si sono inventati questo progetto a favore appunto dei malati di Alzheimer, cosiddetta casa paese. Poi a Curinga torna dopo due anni la Bettola, tre giorni per riproporre usi, costumi e gusti antichi. Nel mondo scuola c'è questa iniziativa, divertimento e adrenalina per gli studenti del liceo artistico fiorentino al rafting sul fiume Lao nel Pollino. Il violino di Giuseppe Gibboni apre il sipario al Teatro Grandinetti, danza, musica, recitazione, la nuova stagione teatrale promossa da Ama Calabria. Primo appuntamento il 21 ottobre alle 21 al Teatro Grandinetti. poi tanti appuntamenti anche con noti attori, insomma una stagione teatrale importante che sta per iniziare nella città di La Mezzia Terme. Tutti gli spettacoli appunto si terranno al Teatro Grandinetti di La Mezzia Terme. Andiamo ancora all'interno delle pagine del quotidiano del Sud, a Vibbo o al Comune, sono in arrivo 24 nuove unità, al Comune di Vibbo. Due figure dirigenziali, le restanti categorie via via inferiori, pubblicato l'avviso della selezione in linea con il piano del fabbisogno del personale. Poi provincia di Vibbo, semplificare l'iter di pagamento delle somme di provvedimenti giuristizionali esecutivi. L'ente approva, l'ente appunto della provincia di Vibbo, approva queste linee guida. Andiamo ancora alle pagine del quotidiano del Sud, Vibbo e provincia. a Tropea, il Rotari accoglie Policastri, proficuo in telecruzione con il presidente Rotolo e con i soci, il governatore del distretto 2012 in visita nella cittadina tirrenica. Andiamo sempre a Quotidiano del Sud, c'è un'intervista che riguarda il cantautore Lamettino Luigi Stranges, la libertà di Luigi Stranges nel suo nuovo album. Quindi questo è appunto quanto dichiara Luigi Stranges, il vincitore dell'ultima edizione di Amici, il Lamettino Luigi Stranges che ha lanciato il suo ultimo disco Voglio Lagon. Qui oggi c'è l'intervista a Luigi Stranges che continua ad ottenere successi ora anche con il suo ultimo album Voglio Lagon. Questo era sempre sul quotidiano del Sud, come sempre noi poi ci avviciniamo alla conclusione del nostro appuntamento con lo sport, ma prima di passare le pagine sportive andiamo anche al quotidiano del Sud, edizione nazionale, l'altra voce dell'Italia, è finita la Seconda Repubblica. L'elezione di La Russa alla presidenza del Senato archivia berlusconismo e anti-berlusconismo. La Russa, eletto al Senato senza i voti di Forza Italia, decisivo il soccorso di una parte dell'opposizione. Poi a Palazzo Madama la staffetta della pacificazione, pronti via ed è subito fibrillazione, l'inflazione morde, la Fed pronta a nuovi rialzi, una fetta di futuro si prepara a Pechino. Poi andiamo a quelle che sono le notizie del nuovo governo, il primo vero scoglio per Meloni sarà la legge di stabilità per le tante emergenze da affrontare. Poi Raul Daffi, il pittore della gioia, una grande rassegna a Roma, una mostra della Fondazione, Terzo Pilastro. E poi qui all'interno delle pagine del quotidiano del Sud, Silvio Berlusconi che discute con la Russa e poi anche con Salvini e a bracetto con Licia Ronzulli. Poi la scheda bianca che fa discutere, il sospetto è che ci sia in atto un'OPA su Forza Italia da parte dei centristi. Questo era appunto sul quotidiano del Sud. Divisioni e rancori frenano la pedalata di Giorgia Meloni. Poi siamo sicuri che per il mezzogiorno possa bastare un unico ministero, turismo, agricoltura, infrastrutture, politiche sociali, nord e sud hanno esigenze diversissime. Non sarebbe giusto sdoppiare i ministeri competenti, si chiede il quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Le grandi sfide nazionali e internazionali che aspettano il nuovo esecutivo, la coerenza di Giorgia Meloni alla prova della legge di stabilità, scrive appunto. Progetti per i giovani in biblioteca finanziati gli enti locali per la creazione di nuovi spazi di aggregazione. Tra Putin e Erdogan nessun progresso è stato registrato sullo scontro bellico, si è discusso solo del gas. Questo era appunto sul dorso nazionale dell'altra voce dell'Italia. E come sempre ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento con lo sport, andiamo al calcio, alla Serie B. Regina a Parma senza paura, 12 i precedenti, 3 vittori a Maranto, 2 pareggi e 7 sconfitte. Gli a Maranto vogliono mantenere la leadership più di 2.000 al seguito della squadra. Sempre Serie B, Cosenza attacco Cercasi, Cosenza che giocherà contro il Genoa. L'unico gol è di Larrivei, Dionigi valuta anche un modello a due punte. Catanzaro, Serie C, parla a Tentardini, fondamentale l'apporto di chi subentra. Siamo un gruppo e questo fa la differenza. Sempre Serie C, Crotone, fame e orgoglio. Alfredo Cardinale, grande ex di Rosso Blu, analizza il momento della squadra. Questo era appunto sulle pagine del Quotidiano del Sud. Poi Serie D, Pietro Infantino torna in panchina alla San Cataldese, sostituisce l'esonerato Vullo. E andiamo anche allo sport di Gazzetta. Reggina via alla missione Tardini a Parma tra entusiasmo e consapevolezza. Inzaghi con un paio di ballottaggi da risolvere nell'11. Poi Hernani o Kisetic in mezzo, Canotto o Ricci sulla destra. Quindi si avvicina la trasferta per la regina al Tardini di Parma. Poi sempre Serie B, andiamo al Cosenza. Cosenza si affida alla Cabbala in vista del difficile confronto con la corazzata Genoa. Benotti i giocatori silani che hanno fatto gol al Grifone per un totale di ben 16 reti, mentre in casa non ha mai perso in dieci precedenti. Poi Serie C, Catanzaro, Tentardini a pieni voti, in questa rosa siamo tutti titolari. Crotone verso Foggia, un classico testa-coda. Poi abbiamo anche la Serie B, c'è questa notizia che riguarda la Vibonese che arriva a compiere un altro acquisto sul mercato. Vibonese è arrivato il transfert per Caicedo, quindi l'attaccante Caicedo alla Vibonese. Questo era appunto su Gazzetta del Sud. Poi concludiamo lo sport, ma anche il nostro appuntamento con Gazzetta dello Sport. Juve, il grande freddo, titola Gazzetta dello Sport. La squadra contesta il ritiro deciso da Allegri. I giocatori volevano tornare a casa. Nel Merino anche la gestione di Max e la preparazione fisica delle gare. Il CT serbo Stojkovic. Milinkovic, Savic, lo vedo bene in bianco-nero. Poi Europa League, Belotti salva la Roma a Siviglia. Murigno, dipende tutto da noi. Rabbia Lazio, un pareggio, 10 uomini, 2-2. La Fiorentina in Conference League torna a sorridere, batte 5-1 l'Hers con 5 gol alla squadra scozzese dell'Hers. Poi all'interno tanto spazio ancora per la crisi della Juve. Sollievo intanto per Di Maria. Lo stop è di 20 giorni. Rientra tra PSG e Inter. Juve nervitesi, scrive Gazzetta dello Sport. Poi l'Inter scala il paradiso. Più soldi e sponsor dalla Champions, scrive appunto il quotidiano Gazzetta dello Sport. Poi c'è il grande momento che sta vivendo il Napoli. Arrigo Sacchi parla del Napoli. Spalletti ora è da semifinale. Caro Milan, puoi dare di più. Juventus, scelte sbagliate. Il Napoli è frutto della generosità, collaborazione e della sinergia. dice Arrigo Sacchi, commentando il grande momento che sta vivendo il Napoli. Che è finita, ha concluso ormai il girone da prima in classifica. Il girone di Champions, mentre il Napoli guida anche la classifica del campionato di Serie A. Poi andiamo ancora all'interno delle pagine di Gazzetta dello Sport, dove appunto c'è la sconfitta, purtroppo la sconfitta della Nazionale Italiana di Volley Femminile, che è stata sconfitta dal Brasile, quindi finisce, sfuma il grande sogno azzurro, scrive Egonu fallisce il punto speranza, Brasile in finale, troppe difficoltà. Quindi Paola ha la palla del 2-1, quindi l'Italia ha avuto la palla del 2-1, del 2-7-1. La sbaglia e la gara gira in favore delle rivali che appunto ora sfidano la Serbia per l'oro, quindi in finalissimo. Il CT Mazzanti, dopo quell'occasione, tutto si è complicato. Insomma l'Italia del volley femminile ha perso 3-1 col Brasile, però ha avuto la palla del set, cioè ha avuto il set ball per andare su 2-1, però purtroppo questa palla è stata fallita, per cui l'Italia poi ha perso 3-1, poi ha perso il quarto set contro il Brasile alla semifinale dei mondiali di volley. Quindi sfuma il sogno di arrivare in finale per l'Italia al volley. Questo era sullo sport di Gazzetta dello Sport. Abbiamo anche lo sport, andiamo a vedere anche qualche notizia di sport su Repubblica. Ecco anche sul Repubblica il mondiale di volley femminile. Italia al di qua del muro, il Brasile è una macchina, non ci resta che il bronzo. Egonu nel terzo set fallisce il punto del 2-1. Mazzanti, abbiamo lasciato tante energie. Ora c'è la finale del terzo e quarto posto contro gli Stati Uniti. Peccato per l'Italia del volley femminile che era arrivata a un passo ormai dalla finalissima del mondiale di volley femminile, dopo che l'Italia del volley maschile ha vinto i mondiali. Ci poteva essere la cosiddetta doppietta mondiali maschili e mondiali femminili, ma purtroppo è sfumato tutto. Ed è sfumato anche il nostro appuntamento odierno con i giornali in tv. Da Pasquale di Oretura come sempre è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. Ci rivedremo per le prossime edizioni. Grazie per averci seguito.